Gli idraulici salveranno il mondo. Lo so, detta così potrebbe sembrare un'affermazione estemporanea, senza senso, illogica, ma io ci credo talmente tanto da aver addirittura scritto un manuale a cui ho dato esattamente lo stesso titolo. E questa mia convinzione parte in un'epoca lontana, quando ero un bambino e ho avuto la fortuna di passare tantissimo tempo in compagnia di mio nonno, perché passare il tempo in compagnia dei nonni è una fortuna, hanno tante storie da raccontare. Mio nonno era una persona umile, di mestiere faceva il muratore e ha sempre avuto la volontà, forse la necessità, di costruire un mattone alla volta, la nostra base solida, e quando intendo nostra intendo a livello familiare, lui credeva nella famiglia, trasferendoci dei pensieri positivi, delle esperienze concrete. Solo che lui aveva un modo di fare questa cosa, che era, a mio avviso, straordinario. Lui ci raccontava delle storie, e queste storie non erano le classiche favole, ma erano delle storie inventate, fondamentalmente. Ed era bravissimo nel mischiare la realtà e la fantasia. E riusciva a creare dei veri e propri episodi, sempre con, alla fine, una sorta di morale. Qualcosa davvero utile e ovviamente capibile per quel che era l'età della persona con cui lui stava parlando. Era veramente una persona incredibile. Oggi i tempi sono cambiati, ma io mi ricordo queste storie, le ricordo con affetto, chiaramente. Mi ricordo anche con affetto che già ai tempi, quando ero un bambino, perché questa cosa iniziò all'incirca quando avevo sei anni, mi ritrovai di fronte ad una situazione abbastanza simpatica, che vi invito ad immaginare. Vi ricordate la classica domanda che sicuramente vi avranno posta? Che cosa vuoi fare da grande? E tutti quanti, mi ricordo i miei compagni, l'astronauta, lo scienziato, il pompiere, l'avvocato, il medico. Io alzavo la mano letteralmente, con un entusiasmo, l'idraulico! Davvero! E questa cosa mi ha veramente colpito, anche perché non nego che guardare gli sguardi delle persone che ascoltavano questa mia affermazione vuol dire, ma qualcosa di più. No, no, è di più. Cioè, per me è assolutamente eccezionale, è un lavoro straordinario. Perché mio nonno lanciava sempre un'affermazione, perché lui mi consigliava di diventare un idraulico, ed era da lì che io attingevo questa sua esperienza, perché è normale, lui di misteri faceva il muratore, fatica. E per lui le persone che non facevano fatica nel suo contesto erano gli idraulici, erano loro, gli elettricisti, gli idraulici, ma l'idraulico in particolare gli aveva passato quella sensazione, no? di un lavoro con una certa professionalità, guadagnavi bene, forse una volta, non lo so, sicuramente però ti garantiva un tipo di attività sempre utile. E quindi lui proprio mi diceva diventa un idraulico, Vincenzo, perché ti troverai sempre bene, avrai sempre da poter lavorare, fondamentale lavorare, no? Per sostenersi. E io ho fatto mia, piano piano, un passo alla volta, anno dopo anno, questa sua convinzione, questa sua affermazione. Ora se mi cercate online, così, io non faccio l'idraulico, però faccio un lavoro trasversale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io sono una sorta di ponte di comunicazione tra gli idraulici e tutta la parte relativa ai professionisti che gravitano intorno agli idraulici. E da lì il manuale, il manuale è un traduttore in un certo qual modo, no? Quindi ho un po' creato, ho reso più tecnologico forse, visto che qua siamo in un contesto dove si parla di tecnologia, ho reso più tecnologico quello che era un consiglio base lanciato da una persona che mi voleva assolutamente bene. Quindi in un certo qual modo ho fatto un po', no? Quello che mi era stato consigliato. Però io ho anche detto che il contesto oggi è cambiato. E viviamo in un mondo veramente complesso. Fateci caso. Notizie dei telegiornali sono sempre difficili da digerire. Ci piacciono le serie televisive cruente. Guardiamo su queste piattaforme digitali, basta guardare i titoli. E poi per rilassarci andiamo al cinema a guardare i film dei supereroi. E questa visione che vi ho appena raccontato mi è proprio scattata durante l'ennesimo film dei supereroi che mi stavo accingendo a vedere. Ero in coda al cinema per vedere il ventiduesimo film dei supereroi. Ventiduesimo già dice lunga, no? Quanti ne hanno fatti. Avengers Endgame, un film della Marvel. E il mio cervello iniziò a scollegarsi dalla realtà, da quello che stavo facendo, tanto è che la fila in quel momento era talmente lunga che il mio cervello iniziò a ragionare. Come quando guidate l'automobile e a un certo punto vi ritrovate da un'altra parte, arrivate a destinazione senza ricordarvi della strada. Più o meno questo è un po' il ragionamento. Succede spesso e in tanti contesti. Ma in quel momento il mio cervello iniziava a pensare che fila interminabile. Ma come mai? È un film di supereroi? Ero lì per vederlo. È adolescenziale e attira tutte queste persone. Ma come mai? Cos'è che spinge l'industria cinematografica a concentrare l'attenzione su questa tipologia di film? Ma allora si chiama industria cinematografica, probabilmente la spinge il guadagno. Il ventiduesimo film, già ce la stavo dicendo lunga, la coda interminabile mi stava rispondendo al discorso economico e poi sapere che Avengers Endgame, proprio quel film, è stato un campione da un punto di vista del maggior incasso mai raccolto nella storia con 2 miliardi e 800 milioni di dollari, vuol dire che a livello planetario questa tipologia di film ci piace. E quindi il mio cervello inizia a propormi una serie di risposte del perché io fossi lì, del perché, ovviamente non conoscevo a quei tempi il record di incassi, ma eravamo talmente tanti. Ma perché? Che cosa ci spinge? Illuminazione. Noi abbiamo bisogno di essere salvati. Provate a pensarci. Cosa fanno i supereroi? Ci salvano in generale, no? Catastrofi, non dico attacchi di nemici, però i supereroi come compito hanno quello di salvarci. Bene. Ma allora perché noi troviamo conforto, noi adulti, non bambini, noi adulti troviamo conforto in questa tipologia di film? Perché noi abbiamo bisogno di essere salvati, ma da chi? L'ho detto prima, noi siamo circondati da notizie negative e difficili da digerire, no? Crisi climatica. Tu, da solo, saresti in grado di risolvere una crisi climatica? Do io la risposta perché ho indicato una a caso. No. Bene. E allora un supereroe, ecco che potrebbe fare realmente la differenza, se solo esistesse. Mari invasi dalla plastica. Adesso mi metto e raccolgo tutte le bottiglie di plastica. Sì, certo, fallo perché è ospicabile, no? Però, visto in una chiave generale, ci sentiamo veramente impotenti. I supereroi, e questo ovviamente è una mia visione, nella mia interpretazione, ci fanno sentire chiaramente un pochino meglio, ci fanno sentire un po' protetti. Bene. Però ci siamo arrivati fino a questo punto. Cioè, mari invasi dalla plastica, crisi climatica. E come ci siamo arrivati? Chi è il cattivo della storia? I cattivi di questa storia, che tecnicamente i supereroi dovrebbero sconfiggere, siamo noi. Siamo noi che stiamo utilizzando questo pianeta, no? Lo sentiamo tutti i giorni, non vi sto raccontando un qualcosa di nuovo. Ma perché siamo arrivati lì? Volontariamente abbiamo inquinato il nostro pianeta? O l'abbiamo fatto inconsciamente? Qualcuno di noi l'ha fatto volontariamente, sta inquinando volontariamente, oggi inquinerà volontariamente, domani lo farà? No! Certo. E allora? La cosa che ci ha portato fino a questo punto, in una buona quota parte, è stata la ricerca del comfort. È stata la ricerca del comfort. Pensateci. L'esempio più banale. Torno a casa la sera, apro la porta, fuori fa freddo, adesso in questo periodo poi è un po' invernale, no? Umidità. Torno a casa, entro e che cosa voglio trovare? Io voglio trovare il calore del focolare familiare, della casa, no? Sì, il focolare familiare è bello, mi scalda sapere che ci sono delle persone che mi vogliono bene, ma se la casa in quel momento lì è fredda, è fredda. Non c'è neanche ce n'è di storia. E noi viviamo in un contesto oggi dove privarci del calore fisico della casa ci risulta proprio impossibile da concepire. Mio nonno aveva una stufa a legna. Non tornava a casa trovando la calda, ci metteva la legna e già era oro ai tempi. Quindi questa tecnologia che si è evoluta veramente in maniera molto veloce negli ultimi anni ci ha portato ad avere diversi vantaggi reali, tangibili. Vantaggi che addirittura ci hanno fatto ingannare l'evoluzione umana. Questa cosa potrebbe sembrare un po' strana, eh? Di solito l'evoluzione ci mette centinaia, migliaia di anni, no? Ecco, noi siamo stati così tanti intelligenti, noi umani, da riuscire a ingannare l'evoluzione. Tant'è che, e cito una notizia uscita sul National Geographic nel 2012, vado a parafrasarla perché chiaramente a memoria diventa un po' complesso, però recitava più o meno così. Se in un'epoca preindustriale la vita media durava 32 anni, oggi la vita media ne dura 72. Sembra poco ma poco non è. Noi abbiamo raddoppiato la nostra stessa esistenza, abbiamo trovato l'elisir di lunga vita e l'abbiamo trovato in un comfort principalmente legato alla tecnologia, a servizio nostro che passa attraverso tutta una serie di canali. Guardate, vi faccio un esempio molto intuitivo, velocissimo, che non è per forza legato all'idraulico in sé, di cui oggi ovviamente tra poco capirete perché ho fatto questi link, ma la vita si è allungata anche solo perché siamo in grado di conservare le medicine, gli organi. Come li conserviamo? Noi li conserviamo grazie al circuito frigo, che è una tecnologia, ha un frigorifero, detto proprio brutalmente, no? Che è una tecnologia abbastanza recente, veramente super recente. Ecco, senza questa tecnologia probabilmente avremmo avuto più difficoltà nell'allungarci la vita, ma anche nell'avere più comfort, più vantaggio nella nostra stessa esistenza. Però io sono partito dicendo gli idraulici salveranno il mondo e adesso vi sto parlando di supereroi e di circuito frigo, insomma, robe un po' strane da collegare tra di loro. Però sono passato attraverso la casa, attraverso il comfort della nostra casa e chi costruisce fisicamente il comfort all'interno delle nostre abitazioni? Chi lo fa? Da un punto di vista del caldo, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, con cui ci facciamo la doccia, lo fanno gli idraulici, cioè non è che c'è un'altra figura, sono loro che lo fanno. Bene. Affidarsi ad un professionista capace, competente, è fondamentale, non tanto per star meglio noi, ma per usare meno risorse primarie. Perché paradossalmente nelle nostre abitazioni, solo a livello europeo e in Europa noi siamo 740 milioni circa, entra il 40% di tutta l'energia che viene distribuita a livello europeo nei nostri edifici, nelle nostre case. pensate quanto pesa questo comfort. E la metà serve solo per scaldarci. Capite la quantità di responsabilità che queste persone hanno in mano? Come ce l'avete in mano tutti voi, tutti noi, perché io non è che vivo in una casa fredda. Quando ci chiedono di abbassare di un grado la temperatura dei nostri ambienti è perché la quantità, ovviamente, di abitazioni messe tutti insieme, se tutti noi dovessimo ascoltare questo consiglio, e spero che lo facciate, potrebbe realmente fare la differenza. Come in un mare, tante gocce d'acqua formano un'intera vastissima quantità di acqua. È così che funziona, non c'è un'altra strada, è l'unione che fa la forza. Sempre, sempre. Chiaro, ci può essere il singolo che fa la differenza, ma la forza la fa l'unione. E da qui io in prima persona mi scontro e mi incontro, oserei dire, sempre con questi professionisti perché il mio compito è trasversale e cerco davvero di convincerti, ma lo faccio col cuore. Guarda che se ti chiedono di essere certificato e di studiare, fallo perché ti serve per migliorare, non solo tu, ma proprio migliorare a livello planetario hai una responsabilità enorme. Tu e tutti i tuoi colleghi messi insieme a noi, utilizzatori, possiamo fare una differenza estrema. È estrema. Ricordatevi l'energia a livello di quantità che vi ho suggerito poc'anzi. La differenza è enorme. Bisogna prendere coscienza di questa cosa qua. E nel mio piccolo appunto è da lì, no? L'idea di dargli lo strumento che ho realizzato e che oggi mi porta qui perché io sono qui proprio grazie a questo strumento e sono contento perché posso parlare a voi non tanto dello strumento in sé, ma ricordandovi di fare la differenza anche voi, chiaramente. Bene, io però quando parlo di salvare il pianeta mi immagino un eroe, no? Bene, gli idraulici lo sono a tutti gli effetti perché è così che funziona e addirittura, essendo anche loro esseri umani, sono persone che potrebbero, uso il condizionale perché non tutti noi siamo uguali, avere un cuore enorme e vi assicuro che ci sono delle persone che fanno parte di questa categoria che questo cuore ce l'hanno. Io non sono, non ho fatto parte del progetto di cui adesso vi faccio vedere due slide e sarà il progetto poi in realtà con cui chiuderò questo mio speech, ma ci tenevo particolarmente a farvelo vedere e ho chiesto la loro autorizzazione chiaramente per poterlo fare perché è uno dei tanti progetti che nascono da queste consapevolezze che io vi ho appena passato e che possono fare anche loro la differenza. Il progetto si chiama l'albero delle caldaie e sostanzialmente è un progetto che è stato realizzato da due distinte associazioni di idraulici che hanno fatto loro tutto quello che ci siamo raccontati poco prima insieme a una Ollus che si chiama Parchi per Chioto. Il progetto è abbastanza semplice, se io installo in ogni casa un generatore di calore, questo consuma in un certo modo dell'energia, produce in un certo modo una parte inquinante e non ne possiamo fare a meno perché devo stare al caldo, devo poter avere dei comfort che sono quelli che ci aiutano, metto in moto un circuito, un circolo interessante in grado di poter contrastare quello che sono le emissioni inquinanti prodotte da quello che io ti sto installando. Chiaramente più sarò efficiente nella scelta dell'impianto, nella scelta degli strumenti che utilizzerò, meno inquinerò, ma comunque il progetto in sé è interessante perché per ogni generatore che loro vanno a installare propongono di piantare un albero e ogni albero piantato nel suo intero ciclo di vita riesce a trasformare fino a, mediamente in realtà, fino a 700 kg di enidride carbonica. E allora io vorrei concludere con un invito. Prima di tutto vi ricordo davvero usate con attenzione parsimonia questo straordinario strumento come l'impianto in sé ma in generale tutto quello che vi crea comfort usatela con attenzione perché bisogna aver cura di quello che ci fa stare bene e mai approfittarsene. E se ce la fate, piantate anche voi un albero perché nella vita comunque far del bene anche in maniera indiretta è una cosa sempre che uno, diciamo così, deve far propria. Come sentimento io proprio voglio passare. Piantate un albero perché così in maniera indiretta andrete ad aiutare il pianeta e voi stessi. Grazie mille.